Musica Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Partiamo dal report sul coronavirus. Continuano a salire i numeri del contagio. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 468 casi positivi, 72 dei quali in Friuli Occidentale. Rispetto a ieri il numero è salito di 62 unità, mentre i tamponi sono rimasti costanti. E sono 5 i decessi da Covid-19 registrati, 3 dei quali in Friuli Occidentale. Si tratta di un uomo di 91 anni di Casarsa, di una donna di 96 anni di Cavasso Nuovo e di una donna di 94 anni di San Quirino, tutti deceduti in ospedale a Pordenone. Entrando nel dettaglio del pordenonese, tra i nuovi contagi c'è un medico del Crodi Aviano. Inoltre sono stati rilevati casi nella scuola secondaria di primo grado Pierpaolo Pasolini di Pordenone e nella scuola primaria di Bruniera. Scendono a 34 i pazienti in cura e terapia intensiva, mentre salgono a 152 ricoverati in altri reparti. I casi attuali di infezione sono 4.160, 394 più di ieri. Fino a 1.500 euro in busta paga i dipendenti dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, che sono stati in trincea contro il Covid durante la prima ondata. L'accordo è stato siglato questa mattina tra aziende e sindacati, per i quali però resta il nodo della carenza del personale. Arrivano i premi Covid per i dipendenti dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Questa mattina l'azienda ha sottoscritto con i sindacati gli accordi per la distribuzione delle risorse statali e regionali stanziate per l'emergenza coronavirus. A essere interessati saranno 3.500 dipendenti del comparto e della dirigenza, che beneficeranno da novembre dei premi riguardanti il trimestre marzo-maggio 2020. Con questi accordi, richiara il direttore generale di Asfo, Josef Polimeni, aziende e regione, in accordo con i rappresentanti dei lavoratori, riconoscono il merito professionale di tutto il personale, che con impegno quotidiano ha affrontato i rischi della pandemia per tutelare la salute pubblica. Anche i sindacati si sono dichiarati soddisfatti. I soldi che arriveranno al personale che è stato impegnato in quei mesi saranno divisi su tre gruppi. Un primo gruppo di straordinari, a tutto il personale che ha svolto più di 15 ore di straordinario, verrà pagato lo straordinario fatto quasi raddoppiando il valore contrattuale. Un secondo capitolo è quello dell'indennità di malattie infettive, quindi tutti gli operatori che hanno lavorato all'interno di quei reparti a rischio prenderanno 5,40 euro al giorno per i giorni lavorati. Infine abbiamo fatto l'accordo sui premi Covid con una graduazione che va da 500 euro a 1.500 euro in base alle giornate di presenza del personale che ha lavorato direttamente con i pazienti Covid, che possono essere sia quelli ricoverati ma anche quelli, esempio il Dipartimento di Prevenzione, che tutti i giorni tamponava le persone che arrivavano al drive-in quella volta della fiera. Un premio sarà riconosciuto anche a chi, come amministrativi e tecnici, ha sicurato il necessario supporto alle attività sanitarie. Per i sindacati però resta il nodo del personale. Il problema del personale che ricordiamo ci ha portato a dichiarare e a fare uno sciopero il 24 di luglio scorso è rimasto tutto invariato. Da i primi diludi l'azienda sanitaria, a parte qualche dirigente, non ha assunto un operatore sanitario. Con quello che sta venendo avanti, con i contagi, purtroppo anche degli operatori, ci troveremo sempre più in difficoltà a dare un'assistenza adeguata e degnitosa alle persone. E per sostenere le imprese colpite dalla crisi scatenata dal coronavirus, la BCC Pordenonese Monsile ha messo in campo un'iniziativa per sostenere gli operatori del turismo e del settore alberghiero. Un plafond speciale per sostenere gli operatori locali del settore turistico alberghiero del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Ad attivarlo è stata la BCC Pordenonese Monsile che, dopo lo stanziamento di 10 milioni deliberato a giugno, ha deciso di venire nuovamente incontro a uno dei settori più colpiti dalla crisi. L'iniziativa, deliberata dal CDA della Banca e realizzata in collaborazione con Fidi Imprese e Turismo Veneto, non prevede un limite massimo di intervento e punta a soddisfare il più alto numero di richieste che arriveranno e che rispetteranno i termini di accettazione. Si tratta di finanziamenti a tasso fisso della durata massima di otto mesi che aiuteranno le imprese nel comparto ad avere subito la liquidità necessaria per le spese correnti e gli investimenti in nuovi progetti imprenditoriali. Gli importi vedranno una garanzia da parte di Fidi Imprese e Turismo Veneto pari ad almeno il 60% della quota complessiva. Abbiamo voluto dare un segnale importante, commenta il direttore generale della BCC Gianfranco Pilosio, a un settore oggi in difficoltà che ha però bisogno di strumenti immediati per poter accedere agevolmente al credito. Come banca di credito cooperativo è nostro compito sostenere le imprese del territorio che lentamente stanno cercando di riorganizzare le proprie attività in un presente ancora incerto. In questo particolare momento, conclude il presidente di Fidi Imprese Massimo Zanon, è necessario intervenire senza indugio nei confronti delle nostre imprese per offrire un sostegno concreto alle attività che più stanno soffrendo in questa situazione straordinaria. Voltiamo pagina. Nei giorni scorsi a Pordenone sono entrati in vigore i limiti al traffico veicolare contro l'inquinamento atmosferico, ma sono già stati registrati alcuni sforamenti per le polveri sottili, anche se non consecutivi. E il lockdown in primavera non ha aiutato molto a tenere basso l'inquinamento. A metà ottobre è scattato a Pordenone e in altri 13 comuni del friulo occidentale il piano aria, pensato per ridurre l'inquinamento in caso di sforamento dei limiti di legge per le polveri sottili. Quando i superamenti si verificano per più di tre giorni consecutivi, oltre alla limitazione del traffico, che nel capoluogo è sempre interdetto entro il ring per i veicoli più vecchi e inquinanti, il piano prevede il divieto di accensione di fuochi all'aperto e di utilizzo del riscaldamento a legna e l'abbassamento della temperatura in casa entro i 20 gradi, possibilmente a 18. Già nei giorni scorsi si erano verificati alcuni superamenti dei limiti. Abbiamo avuto qualche giorno sicuramente di sforamento, anche la scorsa settimana, però non avendo i tre giorni consecutivi non viene attivata l'emergenza, il piano emergenziale da ARPA. E che le sole limitazioni al traffico non siano sufficienti per migliorare la qualità dell'aria, lo dimostrano le misurazioni effettuate in primavera durante il lockdown. Durante il Covid abbiamo avuto una situazione un po' particolare, anche perché pur avendo bloccato il traffico veicolare, perché la gente naturalmente non si spostava per andare al lavoro, abbiamo registrato comunque delle percentuali alte in alcune giornate. E questo è dovuto anche al fatto che il lockdown è avvenuto nel periodo in cui c'erano ancora riscaldamenti accesi, perché ricordiamo sempre che almeno il 20% degli inquinanti sono prodotti dalle nostre caldaie domestiche. Dopo la visione delle bozze da parte dei comuni interessati, nei prossimi giorni sarà lanciata la nuova campagna informativa sulla qualità dell'aria. Sarà una campagna molto colorata e fumettata che verrà accompagnata dalla nostra mascotte Quasar, questo marziano prodotto dalla mano magica di Emanuele Barison, il noto fumettista a livello internazionale. In tema di inquinamento, sabato 31 ottobre alle 16, il Circolo Legambiente di Pordenone trasmetterà sui propri profili social un convegno sulla qualità dell'aria, tematica al centro del progetto Cambiamo l'aria, sostenuto da Regione Friuli-Venezia-Giulia. All'incontro interverranno esperti che esplorranno la situazione dell'inquinamento atmosferico a Pordenone in Regione, i problemi e i rischi correlati e le possibili soluzioni. A parlare saranno Martina Bellucci, vicepresidente del Circolo Pordenonese, Fulvio Stella, responsabile qualità dell'aria di Arpa FVG, l'opneumologo Carlo Barbetta e l'ingegnere Germana Bodi. Restiamo in città, quest'estate i Punti Verdi hanno accolto 170 bambini fino a 6 anni. A chi ha organizzato i centri, il Comune di Pordenone ha assegnato contributi straordinari pari a 51 mila euro e Rotary Club Pordenone Alto Livenza consegnerà alle scuole cittadine materiale informatico per la didattica. 51 mila euro di contributi straordinari a 15 associazioni, enti e parrocchie della città è quanto assegnato dal Comune di Pordenone a chi ha organizzato durante l'estate i Punti Verdi per bambini e adolescenti. Fondi che si aggiungono a quelli statali e che rientrano nel pacchetto di aiuti di circa 3 milioni varato dall'amministrazione comunale per aiutare famiglie, associazioni e imprese della città colpite dalla prima ondata della pandemia. I sostegni ai Punti Verdi privati sono stati erogati per dare una mano, oltre che ai gestori, a famiglie e bambini provati dal lungo confinamento domestico dei mesi scorsi. Il Comune aveva già stanziato fondi aggiuntivi anche per i due Punti Verdi comunali, così che i costi triplicati non pesassero sulle famiglie. I centri estivi comunali hanno accolto 120 bambini dei 3 e 6 anni presso gli istituti comprensivi cittadini e 50 bimbi dei 0 e 3 anni nei due centri di infanzia municipali. Un aiuto alle scuole arriva dal Rotary Club Pordenone-Alto Livenza che, in collaborazione con il Comune, consegnerà quattro nuovi kit con videoproiettori interattivi, PC e due notebook destinati ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi cittadini e delle scuole paritarie Vendramini-Dombosco. L'iniziativa è coordinata dall'assessore comunale e regionale Alessandro Basso e dal sindaco Alessandro Ciriani, per i quali l'iniziativa dimostra come Rotary Club Pordenone-Alto Livenza sia sensibile alle istanze sociali. Friulo Ovest Bank ha consegnato a due laureati in ambito medico due segni di studio grazie alla SOMSI di San Vito al Tagliamento. Grazie all'organizzazione della SOMSI di San Vito al Tagliamento sono stati consegnati da Friulo Ovest Bank due segni laureati in ambito medico in una continua collaborazione con la comunità. È fondamentale perché noi lavoriamo con il territorio e quando il territorio risponde anche all'associazione vuol dire lavorare in sinergia ed è molto importante questo. Si lavora meglio, lavorano felici loro, contenti loro ma soprattutto noi che ci adoperiamo per la solidarietà delle persone e di quello che succede nel paese. In particolare il consigliere Dario Bigatting e il presidente di Credima Giorgio Siro Carniello hanno premiato Irene Maronese, dottoressa in medicina e chirurgia e Andrea Drigo per gli studi in scienze infermieristiche. Direi situazione particolarmente ghiotta quest'oggi per Friulo Ovest Bankia perché ancora una volta questa banca dimostra il suo attaccamento, la sua vicinanza e la sua convinzione verso la comunità. Comunità che oggi, permettetemi che faccia questa breve sottolineatura che è estremamente importante, cioè tra la politica, lo Stato e il mercato, in mezzo c'è un terzo pilastro dove tutte queste realtà qui, soprattutto quelle di tipo cooperativo come Friulo Ovest Bankia, la stessa Credima, società di mutuo soccorso della stessa banca, hanno un'importanza straordinaria soprattutto in tempi di pandemia. Una sola sottolineatura, se oggi il sistema tiene, si tiene per molti motivi, però va sottolineato soprattutto che deve essere fatta una grossissima iniezione di risorse umane. Uno, medici, ne abbiamo pochi, anche se ne abbiamo di più rispetto ad altri paesi dell'Europa, ma infermieri ne abbiamo pochissime, un solo numero, 5,8 per mille sono infermieri in Italia, per mille abitanti, quando la media europea è 8,5. Sostegno di Friulo Ovest Bankia, particolarmente apprezzato dalle istituzioni. Credo che tutte le realtà devono fare sistema, soprattutto in questo momento che il Covid ce l'ha insegnato. Abbiamo bisogno di metterci insieme, di collaborare, di parlarci e di sostenerci a vicenda. La banca è fondamentale quando guarda il suo territorio, quando guarda le esigenze del suo territorio e quando riesce a dialogare con un'associazione come la Somsi che da tantissimi anni collabora con le istituzioni e guarda le esigenze dei suoi cittadini, il risultato si vede veramente molto bello. Il nostro telegiornale termina qui, l'appuntamento è per domani sempre alle 20.45. Vi lascio ai programmi di Telefriuli, grazie di essere stati con noi. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.